buongiorno e ben ritrovati con i nostri approfondimenti sui temi giuridici più attuali la casa editrice che ha recentemente pubblicato l'ampio volume l'attività amministrativa che contiene il commento articolo per articolo alla importante legge 241 del 1990 che è stata modificata nel 2005 e da altre leggi più recenti. È la legge più importante del diritto amministrativo e pertanto saranno svolti con gli autori di questa importante opera dei video illustrativi dei principali problemi e delle soluzioni alle quali si è prevenuti tramite la giurisprudenza. Oggi interverranno il professor Vittorio Italia e l'avvocato Vincenzo Piscopo che ha svolto il commento agli articoli 10 e 10 bis e che si riferiscono alla partecipazione al procedimento e dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Do quindi la parola a professor Italia che è direttore della collana in cui è stata pubblicata l'opera. Bene, io sono molto lieto di questo commento agli articoli 10 e 10 bis sia perché questi articoli contengono degli aspetti e problemi molto importanti ma specialmente perché sono stati esaminati dall'autore avvocato Vincenzo Piscopo con attenzione ed approfondimenti. Adesso svolgeremo una rapida disamina di questi dieci articoli, in particolare l'articolo 10, che riguarda i diritti dei partecipanti al procedimento. Siamo in una materia tecnica ma molto importante e quindi rivolgo delle domande su cui poi ragioneremo all'avvocato Piscopo in modo da approfondire anche per coloro che ci ascolteranno i principali di questi problemi. Quando si parla di partecipanti al procedimento, a chi si fa riferimento? In altre parole, chi sono o che possano essere questi partecipanti? Grazie professore. Innanzitutto mi sia consentito ringraziare e poi entreremo nello specifico questa domanda che vi andremo a fare. Volevo ringraziare il professore proprio perché ha permesso di sviluppare e di intravedere in questo commento tanti tanti aspetti che riguardano l'azione amministrativa. La legge 241 è un caposaldo, è una legge del 1990 ma è ancora un caposaldo nell'azione dell'attività amministrativa di tutta la pubblica amministrazione. Purtroppo devo dire che nonostante abbia quasi 30 anni questa legge, non sempre viene utilizzata in maniera corretta, viene molto lasciata in maniera superficiale perché molte cose vengono ancora date per scontato. In particolare mi piace l'incipit con cui il professore ha iniziato a chi si riferisce, chi sono i partecipanti nei procedimenti amministrativi. Ed è proprio questo un concetto fondamentale che noi dobbiamo tenere presente. L'azione amministrativa di per sé non è un atto impositivo nei confronti del cittadino. Il cittadino non è più un subito, il cittadino non viene più chiamato utente, viene proprio chiamato cittadino. Il cittadino ha diritto di partecipare a tutta l'attività che concerne la pubblica amministrazione. L'articolo 10, in particolare di questa legge e avremo modo poi di... ho fatto anche delle notazioni critiche, il professore ben conosce la mia posizione al riguardo. L'articolo 10 si riferisce ai partecipanti di chi ha un interesse attuale e concreto al procedimento amministrativo. Noi non possiamo pensare che la pubblica amministrazione sia il vecchio sovrano che decide ed impera autonomamente. Noi dobbiamo ragionare nello spirito della collaborazione che deve esserci necessariamente. È chiaro che questa collaborazione deve essere rivolta soprattutto nei confronti di coloro i quali hanno, come dicevo prima, un interesse concreto e attuale a partecipare al procedimento amministrativo. La pubblica amministrazione non può ad amblè decidere di asfaltare una strada, di chiudere una via, di non portare denominazione elettrica, di cambiare, e parlo per una realtà generale dei comuni. Facciamo conto che la maggior parte dell'attività amministrativa viene svolta soprattutto nell'ambito di azioni che riguardano gli oltre 7.900 comuni in Italia, piccoli e grossi che siano, ma tutti devono uniformarsi a questa normativa. Orbene abbiamo detto che sono le persone che devono sentirsi tutelate, quindi chiunque ritenga di dover essere violato da queste azioni della pubblica amministrazione ha diritto a una partecipazione dell'atto, coloro i quali quindi sono i destinatari del provvedimento finale. Non è che è rivolta generalmente a tutti, è vero, bisogna circoscrivere questa partecipazione del cittadino perché altrimenti arriveremo a un'anarchia. Diceva Platone nel Diare Pubblica che quando uno Stato e un genitore diventa troppo amico dei figli e non fa più rispettare le leggi, che quando si mette al servizio di troppi arriviamo a una sorta di anarchia. No, è giusto rimanere nell'ambito delle proprie competenze, ma è giusto e doveroso che il cittadino non più suddito ma partecipe della vita pubblica debba essere fatto. Quindi sostanzialmente per rispondere a questa sua domanda, chi sono i destinatari di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 10, coloro i quali nei cui confronti verrà emanato un provvedimento di carattere impositivo. Noi ai sensi dell'articolo 7 della legge 241 abbiamo il dovere di avvisare i destinatari di quanto la pubblica amministrazione deve porre in essere e chi ha un interesse a questo provvedimento in qualsiasi veste deve poter accedere alla documentazione che ha soffragio dell'azione amministrativa. Molto bene, molto bene. Vorrei porre però una successiva domanda di approfondimento. Qual è la ragione, la razio, la finalità di questa norma? Sembra quella della necessità di un contraddittorio, proprio perché la pubblica amministrazione non è quel sovrano sull'alto della montagna che dà degli ordini al suddito messo più in basso. Quindi è la necessità del contraddittorio. Ma tutto questo però può far sorgere qualche problema. Per esempio, questo contraddittorio può estendersi anche agli atti interni della pubblica amministrazione, quelli che con parola complicata sono chiamati endoprocedentali, cioè quelli che sono all'interno. Cosa ne pensa l'avvocato Piscopo in proposito? Ma a riguardo diciamo che se è pur vero che la casa della pubblica amministrazione deve essere una casa trasparente e cristallina, è pur vero che gli atti endoprocedimentali, proprio perché non hanno uno sbocco definitivo sull'attività della pubblica amministrazione, possono essere non resi ostensibili a mio avviso, ma proprio perché sono atti interni che riguardano l'evolversi dell'attività in quanto tale della pubblica amministrazione. Quindi atti interni, atti che non hanno, a meno che non siano di supporto e di suffragio all'azione amministrativa, quali non possono essere, però le semplici e veline interne, gli appunti che vengono scambiati tra le varie pubblica amministrazione, ritengo che quelli siano ancora in essere della scienza e della volontà del responsabile del procedimento che deve poi coordinare questa azione della pubblica amministrazione. Quindi ritengo che gli atti interni in quanto tale, per usare quella parola bella, endoprocedimentale dell'articolo 10b, di cui ne parleremo poi dopo, non raggiungano quel grado di interesse e di concretezza all'evoluzione che possa essere fatta, insomma. Questa cosa vale anche per atti che sono stati prodotti da privati, quindi la partecipazione coinvolge anche degli atti non della pubblica amministrazione, ma prodotti da un privato che li presenta alla pubblica amministrazione? Ma se vengono, se sono connessi a un'attività, io mi riferisco in particolare a 10bis da questo punto di vista, non tanto, mi riferisco in particolare al fatto che un soggetto, ad esempio, abbia fatto una denuncia, una segnalazione e quant'altro. Ecco, allora qui la giurisprudenza la vedo distinta, nel senso che parte della giurisprudenza ammette la possibilità per il privato che è stato oggetto di un accertamento di poter accedere a questa, alla segnalazione che era stata fatta. Dall'altra, altra parte di giurisprudenza invece non ritiene corretta questa situazione. È una situazione delicata, è in dubbio, dipende poi dal giudice come viene posta la domanda e come è fatto. Però abbiamo trovato sentenze sia a Tar Bologna che poi a Tar Firenze che sono proprio su due posizioni diverse. La risposta è quanto mai io personalmente ritengo che debba essere valutata di volta in volta la finalità dell'accesso agli atti, perché se è ad esempio un caso di Bologna dove era stato trattato dalla realtà di Bologna riguardava una segnalazione a tutela dei lavoratori, allora in questo caso si è preferito privilegiare la tutela del lavoratore per eventuali ritorsioni. Altre situazioni invece vengono valutate in maniera diversa. Quindi direi che sostanzialmente deve essere valutato caso per caso la diversa contrapposizione degli interessi che deve essere fatta. La sua osservazione è esatta e potrebbe essere confermata esaminando questo problema ad esempio nella conferenza di servizi dove lì c'è la possibilità di atti che vengono prodotti da altre amministrazioni o da privati e dove nell'ambito della conferenza di servizi si deve vedere se e fino a che punto vi è questa partecipazione. Però mi sembra che l'impostazione che è stata data dall'Avvocato Piscopo sia corretta e tant'è vero che ne abbiamo poi una prima conclusione. Immaginiamo che questa partecipazione sia negata e invece i partecipanti o uno dei partecipanti ritenga di avere una situazione soggettiva tale perché la sua domanda sia accolta. Sarebbe possibile un ricorso giurisdizionale da parte del partecipante a cui è stata negata la partecipazione? Io ritengo che le azioni a tutela del diritto della difesa siano sempre ammessibili da questo punto di vista. Bisogna poi valutare in base a quale criterio il rifiuto o il rigetto deve essere fatto. Non dimentichiamoci che ogni atto amministrativo ha come presupposto fondamentale la motivazione. Quindi è la motivazione dell'eventuale rigetto che può essere fatto di motivo di impugnazione. Poi come dicevano quelli bravi c'è sempre un giudice a Berlino che può decidere al riguardo grazie al cielo e quindi c'è sempre la possibilità che poi sia un giudice ad intervenire. Sì, io ritengo che in ogni caso sia ammissibile un ricorso contro un diritto che si ritiene violato. Il diritto che però, ripeto, stiamo parlando di interessi soggettivi ma deve esserci sempre un interesse concreto, valido, efficace. Per cui non può essere soltanto scritto a me piacerebbe sapere che cosa ha scritto la conferenza di servizi. Perché? Perché voglio vedere cosa ha scritto Tizio piuttosto che Caio. No, non funziona così grazie al cielo nel mondo del diritto. L'azione, e noi ricordiamoci anche quanto dice il nostro codice civile, deve essere portata da un soggetto che abbia un interesse perché altrimenti sarebbe una vita temeraria. Certamente. E noi non possiamo permettere che la nostra giustizia sia ottenebrata da tanti ricorsi assurdi. Bene, non abbiamo esaurito i vari problemi relativi all'articolo 10, ma possiamo passare, per dare una panoramica di questa materia, all'esame dell'articolo 10 bis, che ha come argomento la comunicazione dei motivi che ostacolano l'accoglimento di questa istanza. Anche qui sorge il problema. Come mai vi è questa comunicazione? Vi è l'esigenza del contraddittorio? L'Avvocato Piscopo su questo punto ha svolto degli approfondimenti molto attenti, che alcuni argomenti per motivi tipografici non sono stati sintetizzati, però i punti essenziali possono essere svolti anche in questa sede orale. Cioè il contenuto del preavviso di diniego, come mai è necessario? E poi la motivazione di questo, dei motivi che ostacolano l'accoglimento dell'istanza. Può essere questa motivazione, sia pure adombrata, con parole complicate, una forma di difesa a oltranza del castello medioevale della pubblica amministrazione? Ad esempio, per motivi di servizio, per motivi di riservatezza? O invece tutto questo deve essere esplicitato, come è stato giustamente segnalato prima in modo cristallino? Qual è l'opinione dell'Avvocato Piscopo? Ma al riguardo, c'è da dire che l'introduzione dell'articolo 10bis è stata uno dei motivi di grande dibattito sia nella giurisprudenza che nell'ambito della dottrina. Perché è stato introdotto questo articolo 10bis? È stato introdotto innanzitutto nel 2005, quindi dopo 15 anni dall'entrata in vigore della legge. Perché? Perché serviva, e le relazioni parlamentarie al riguardo lo danno in maniera molto chiara, serve come attività deflattiva nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi perché io devo dire al cittadino guarda che la tua istanza non sta bene? Perché io devo evitare che a fronte di un muro contro muro che si è detto prima, il cittadino possa chiedere alla pubblica amministrazione di rivalutare il procedimento che porta a una situazione negativa nei suoi confronti. Attenzione, il preavviso di riniego è cosa ben diversa dall'istanza di riesame. Mentre con l'istanza di riesame io faccio una richiesta alla pubblica amministrazione di rivedere quello che sta facendo, ma non sotto il cappio del nodo gordiano di quanto riguarda un diniego della mia istanza, col preavviso di rigetto, io pubblica amministrazione avviso già che questa tua istanza non può essere accolta, ma te lo devo già spiegare subito perché in questa maniera tu hai il diritto alla difesa, hai la possibilità di farmi valutare nuove situazioni che magari non avevo preso in considerazione, non avevo tenuto conto di un documento che era stato protocollato, non avevo tenuto conto di una e che pur sempre io ho nei miei documenti e qui ritorniamo con l'articolo 10, perché se io ho la possibilità di intervenire nel fascicolo, allora a maggior ragione ho la possibilità di vedere quello che mi interessa. Magari c'era la conferenza di servizi che ha detto una cosa e tu responsabile uno del procedimento ne hai inteso un'altra. Ecco, diciamo che il 10 bis interviene come momento deflattivo dell'attività della pubblica amministrazione ed è importante, come si diceva prima, il fatto che ci sia una motivazione. Io devo già dire al mio cittadino, guarda non ti posso prendere questa, non posso accogliere la tua istanza per uno, due, tre, quattro motivi, perché io ho già sviscerato la tua pratica, l'ho già vista, ma non posso io una volta che il cittadino mi ha dato le sue indicazioni aggiungerne altre, perché sarebbe un aggravio del procedimento. Giusto. Sulla base della stringatezza o meno della procedura, la giurisprudenza ha cercato di salvare le pubbliche amministrazioni, dicendo che anche se non è stato specificato bene le motivazioni di eventuale rigetto, se anche il procedimento non poteva non concludersi in questa maniera, anche una motivazione stringata allora può ritenersi ammessa. Insomma, quindi la motivazione, l'abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, è sempre fondamentale nei procedimenti amministrativi, nei procedimenti e nei provvedimenti, che si deve esplicare poi nei provvedimenti amministrativi. Per cui è vero, può essere stringata, ma non può non essere tale da non permettere al cittadino di intervenire nella situazione. Ed è importante, mi sia consentito, la modifica che è stata fatta con il decreto semplificazione, il decreto legge 76 modificato con la 190, dove viene sostituita una parola nell'ambito del secondo capoverso. Poi farò una piccola digressione, non si parla più di interruzione dei termini, ma di sospensione. Il cittadino non può ripartire di volta in volta ad avere una situazione di blocco. La sospensione è cosa ben diversa dall'interruzione dei termini. Mi sia consentito, il professore ha letto le mie prime osservazioni. Io sono sempre abbastanza scettico nei confronti del legislatore degli ultimi anni, perché veramente mi sia consentito, non scrive bene le norme. Non è possibile che in 223 parole e 7 periodi consecutivi, perché mi sono messo proprio a contare, grazie al cielo c'è il contatore di di Guardia, si vengano a dare tante tante informazioni diverse al cittadino, senza un punto e virgola, senza un a capo, senza un poter dire la norma è questa. La norma deve essere chiara, astratta, ma fatta di due righe. Il nostro codice civile, fatto nel 1942, è cristallino, chiaro, preciso. A me non piace questo continuo rimando dell'articolo 7bis, cioè voglio dire la legge 241, rendiamoci conto, c'è un 21 nonies, un articolo 21 nonies, il quale a sua volta ha ulteriori capitoli e ulteriori capoversi, per cui c'è veramente anche difficoltà. Meglio sarebbe, visto che c'è anche la possibilità con la legge 400 del 1988, mettere in pista un'attività di semplificazione, ma vera semplificazione. Si prende la norma, la si riscrive, da quel momento si parte in avanti. Veramente noi, il professore lo sa meglio di me, che coordina tutte queste attività, abbiamo difficoltà come operatori ad andare a capire quando una legge è cambiata, quando una legge non è cambiata, ma soprattutto dà difficoltà anche al cittadino. Il cittadino non può essere sottoposto a questa continua vessazione di norme che si vanno ad intersecare rispetto a situazioni molto belle. Teniamo conto che noi abbiamo il testo unico delle leggi della sanità del 1934, che è ancora in vigore, ma perché era scritto bene. Benissimo, io condivido queste osservazioni critiche dell'Avvocato Piscopo, che magari non saranno condivise invece da qualche funzionario dell'amministrazione centrale, che potrebbe a sua parziale difesa dire ma la causa di tutto questo dipende dal fatto che le leggi non sono meditate bene prima. Di solito si inizia con un colpo di cannone del decreto legge, che entra in vigore subito, però entro i 60 giorni deve essere convertito e nel momento della conversione vengono inserite una serie di nuove norme, anche di dettaglio, e questo determina necessariamente una situazione come giustamente è stata indicata da parte dell'Avvocato Piscopo. Quindi una delle ragioni di questo è proprio nel fatto che il governo è diventato sostanzialmente legislatore e questo è una delle ragioni che dovrebbero essere eliminate. Non a caso è stato citato la legge 400 del 1998, 88 scusi, che stabilisce poi la possibilità di eventuali coordinamenti, testi unici eccetera. Ma in ogni modo, torniamo dopo queste considerazioni critiche che devono essere meditate da ciascuno, l'articolo 10 bis si applica anche ai ricorsi gerarchici. I ricorsi gerarchici sono un po' in declino rispetto alla situazione giurisprudenziale, però esistono ancora, quindi è bene sapere se questo preavviso di rigetto vale anche per i ricorsi gerarchici. Allora, a questo proposito, abbiamo trovato una bella sentenza del Consiglio di Stato, la 2551 del 2012, che bene esemplifica ed ha dei criteri proprio per quanto riguarda i ricorsi gerarchici e la risposta transciante è no. Ma perché no? Perché mentre il preavviso di rigetto si applica ai procedimenti a distanza di parte, il ricorso gerarchico è già un'attività che riguarda un provvedimento definitivo. Io ho già pubblica amministrazione, ho già emanato il mio atto, sono già convinto di quello che ho detto, è un ricorso di carattere giurisdizionale e come tale non è un atto provvedimentale che mi permette di intervenire in questa maniera. La pubblica amministrazione si è già espressa, ha già detto quello che doveva fare e chiuso il discorso, ma proprio perché si tratta di un'attività di carattere giurisdizionale. Non dimentichiamoci, ad esempio, che nei ricorsi gerarchici è anche ammesso, con tutte le modifiche che sono state fatte, il ricorso al Capo dello Stato. È un ricorso gerarchico che adesso ha assunto anche una funzione di carattere giurisdizionale, ma in qualsiasi momento può essere trasportato di fronte al TAR nei tempi previsti dalla normativa. Quindi direi che per quanto riguarda i ricorsi gerarchici la situazione sia stata bene esemplificata e con questa sentenza che fa un po' da faro nell'ambito delle situazioni che devono essere sviluppate anche per questi caratteri giurisdizionali. Altra domanda che appare più di attualità. Si può applicare questa disciplina anche alla cosiddetta scia, segnalazione certificata, eccetera? E per quale ragione? Allora, la scia è quello strumento molto molto particolare che ha permesso e permette ai cittadini di intervenire nell'ambito delle proprie attività. Mi riferisco soprattutto alle scie di carattere edilizio piuttosto che di quelle commerciali. Per cui un soggetto già autonomamente dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti e di tutte le certificazioni che gli permettono lo svolgimento dell'attività. È una sorta di fiducia che la pubblica amministrazione dà nei confronti dei cittadini. Il denunciante alla scia è infatti titolare di una posizione soggettiva, originaria e non instaura un procedimento autorizzatorio. Io posso soltanto bloccarne gli effetti, ma non posso bloccare quanto un cittadino mi dice, perché non è un procedimento amministrativo. E se io considero 10 bis come lo strumento attraverso il quale un soggetto che mi ha fatto un'istanza io lo reputo non corretto, allora intervengo. In questo caso il soggetto già autodichiala, ma perché lo consente la legge in determinate materie, di poter svolgere la sua attività. Io ho soltanto un potere di sospensione dell'attività, ma non ho sicuramente un potere di bloccargliela con i provvedimenti precedenti. Bene, un'altra considerazione e siamo quasi alla fine di questa disamina. Che cosa avviene se non vi è stata questa comunicazione del preavviso di rigetto? Ma allora, come abbiamo detto prima, nell'ambito della motivazione bisogna verificare due situazioni, nel senso che la giurisprudenza oramai è chiara e cristallina e dice che allorquando si dimostri che una partecipazione attiva del cittadino avrebbe potuto portare a una valutazione diversa, la mancata emanazione del preavviso di diniego porta sicuramente a non un lamento di tutto il procedimento amministrativo. In questo senso, giurisprudenza recente, 2019, Tarnapoli, 3622, è stata abbastanza transcianta, l'ha ribadita, ma non è altro che il frutto di un'attività che ci deve essere. Diverso è il caso per cui non viene fatto il preavviso di rigetto quando l'amministrazione non avrebbe non potuto non fare questa attività, questa attività, mi riferisco ad esempio all'ordinanza di demolizione, se è stato acclarato che quel manufatto doveva essere demolito dal momento che si tratta di un'attività vincolata della pubblica amministrazione, non può non pensarci che ci sia un preavviso di rigetto perché è un procedimento completamente diverso, non è a distanza di parte, ma è bensì un'attività obbligatoria vincolata per la pubblica amministrazione. Bene, io direi che abbiamo concluso questa panoramica sopra questi due articoli importanti della legge 241, sull'attività amministrativa e sui principali problemi che essi sollevano. Devo aggiungere che l'Avvocato Piscopo, con il quale ho avuto piacere di dialogare, ha espresso con molta chiarezza i problemi che ci sono, ma non solo in questa conversazione, in questa chiacchierata che abbiamo svolto, ma più ancora nel testo scritto, cioè nel commento scritto agli articoli 10 e 10 bis come sono stati stampati nell'opera l'attività amministrativa. Quindi io ringrazio l'Avvocato Piscopo e restituendo la parola al moderatore Dottor Bianchi, porgo un saluto a tutti. Finissimo. Grazie infinite, grazie anche lei Avvocato. E niente, quindi possiamo dichiare concluso questa breve registrazione che integra quello che c'è scritto nell'opera e che è la prima di successive che saranno fatte con altri autori sempre relativamente all'attività amministrativa. Arrivederci. Grazie a tutti.